ciao a tutti oggi prepareremo il sugo alla puttanesca il tempo di preparazione della ricetta e di 30 minuti circa ingredienti sono polpa di pomodoro olio aglio capperi sotto sale acciughe sott'olio olive denocciolate sale e peperoncino e origano diamo il via alla ricetta siamo la ricetta siamo l'olio all'interno del boccale l'aglio e il peperoncino facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità soft adesso togliamo l'aglio aggiungiamo le acciughe e facciamo insaporire per altri tre minuti 120 gradi velocità 5 trascorso un minuto abbassiamo la velocità a 3 e facciamo proseguire la cottura adesso aggiungiamo i capperi e la polpa di pomodoro facciamo cuocere per 20 minuti 100 gradi velocità 1 adesso adesso aggiungiamo l'origano e le olive e le olive e proseguiamo la cottura per 3 minuti 100 gradi velocità 1 il succo è pronto assaggiare e aggiustare eventualmente di sale andiamolo a trasferire in un contenitore di vetro sugo alla puttanesca grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta